Gabriele mi scrive che consigli puoi darmi per guarire o perlomeno migliorare la malattia cardiaca? What? Che domanda Gabriele! Non sono medico, sicché nessuna autorità, autorevolezza per darti dei suggerimenti medici dovresti contattare chi di dovere, le persone preposte a queste cose. Quando si parla di cuore mi sovviene il chakra del cuore, sicché sicuramente amare ti farà un gran bene, fare beneficenza ti farà un gran bene, amare in maniera incondizionata ti farà tanto bene, ti farà tanto bene, sicuramente. Cerca di individuare il segnale, i messaggi che ti sta dando il tuo corpo, che cosa ti vuole insegnare, che cosa ti vuole insegnare il tuo corpo. Ringrazia, ringrazia tutto ciò che ti accade. Chakra del cuore collegato con l'amore, con l'amore. Analizza, analizza questo aspetto, entra dentro. Molte persone che partecipano alle cerimonie di The Answer, ricevono delle risposte da messaggi che gli arrivano da parte del cuore. Quindi, che messaggi ti sta dando il tuo cuore? Se hai difficoltà ad entrare dentro di te perché non conosci altre metodologie per entrare dentro di te e trovare le risposte che cerchi nella vita, puoi metterti in contatto con i ragazzi, le ragazze che gestiscono e che aiutano le persone a prenotare il loro posto per le cerimonie di The Answer, della risposta. Gabriele, da Taiwan è tutto in attesa del treno, qua arriva un treno super veloce, noi ci vediamo presto.